Anche a casa ragazzi, voi avete capito, no? Ho sentito. Grande recitazione, qui è lo studio 1 del centro palatino. Ecco, proprio una cosa pazzesca. Lo capite dall'anticasso delle ragazze? Ecco, l'avete capito che... Ragazze, è il momento attesissimo, ve l'avevamo detto martedì. No, ecco, oggi è martedì, infatti puntualissimi, noi come sempre. Guardate, non staremo a perdere tempo col parlare, perché altrimenti avremo tempo di parlarci domani, dopo domani, insomma, e altri giorni che saranno qui con noi, i nostri ospiti, per fortuna. Vi dico subito così, praticamente, ecco, allora, vi basta il nome, ragazze, vi basta il nome, ragazze, i Take Dance! Ciao, ciao! Ciao! Ciao, ciao! Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti